Forza lascoli, certo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Quando parti e mi fai fuori due, mi sembri messi. Magari. Ok, uno è sopra, lo pingo. Non c'ho voglia mai nella vita. Non ci credo. Non ci credo. No, che brutto. Imbarazzante. Venga. Tranquillo che la connessione che c'è, abbiamo pure noi. Sì, sto da Dio, da Dio veramente. Chi piace FIFA in generale? Allora. Io, probabilmente, sono l'unico giocatore di calcio che non gioca FIFA. Oh, hello there! Sì, sto qua. Che due palle. Uno è in Maverick cosa stupido. Maverick cosa sto combinando. Porca. Non ci credo mai nella vita. Non ci credo cosa sta succedendo su sto gioco. Eh, la madonna, li sto facendo cadere tutti. Non ne ammazzo uno, vai. Gabri, mostri. Inverprofessioni. Vabbè, mi diletto sul calcio. Va che è meglio. Oppo, uno nell'angolo. Doc morto. Porco giù da Damo Lincoln. Lo stavo mangiando. Guarda quanti complimenti che vi fate, oh. Ma dove sei? Mi sale così. Aspettiamo un tuo gol in campionato se magari. Ma ci vorrebbe proprio. Ah. Guarda, ti dirò veramente con tutti. Veramente con tutti, Mauro. Faccio vedere il tuo ciuffo, no? Per quello c'è il cappellino. Non a caso. Il mio ciuffo magico, raga, è sotto il cappellino. Per quello c'è, no. Povero Morata. Mi spiace. C'è chi guarda Juve Barcellona e poi ci sono io che guardo Daniel Saric. Eh, è grave la situa, eh. Presenta allo stadio e presenta anche qua sempre presente. Grandissimo. Allora, sforzascoli, certo. Come sta eronica? Benissimo. Che ringrazio della domanda. Dopo glielo dico mi farò piacere. Grazie della domanda, veramente. Niente, raga, non so perché. Cioè, veramente, ero tutto contento. Era nell'angolino. Era nell'angolino. No. E ne ha i 90, 90, 90, 90, 90. Io Cristo Dio lo sapevo. E' successo un po' di patatracchicciate. Sono buone le olive. Mi fanno impazzire. Sono buonissimo. Ficcato che con la dieta. Le olive da Scolana sono devastanti. Veramente buone, ragazzi. Veramente. Buone le olive da Scolana. Nonna me le passa pure per colazione. Madonna, colazione leggera. Arriva da Scolana. Dario ti stimo, grazie. Fa tanto piacere. Che c'è frega di Pauerone. Noi abbiamo Darione. Darione è sempre che ci stanno pusciando da qua. Ma è Sereno. Che c'è frega di Pauerone. Noi abbiamo Darione. Sono morto, te lo giuro. Comunque c'ho 30... Quanti siamo 35? Sono tutti i tifosi dell'Ascolino. Grazie. Gabriele Corvo. C'ho avuto grandissimo. Non ci credo mai. Sei matto Gabriele? Sta chiamando Corvo in FaceTime. Beh... Sei bellissimo. E' te! Sono serio, hai visto? Bella PECORVO ti salutano proprio. Sponda, oddio. Mi mostro un balconcino. Leggo dei commenti i ragazzi, su una roba. Con lì Ah ma mo lo mangio C'è la mira, c'è la mira Gli occhiali di Mia Khalifa Mi li ha regalati raga Mia Khalifa La conosci bene Mia Khalifa? No Mi ammazzo Non la conosco Lo faccio proprio così raga Per voi della chat impazzito Completamente Questo è un modo per morire Questo è carino Questo è figa Goliardico Che cottura che c'ho addosso Eh tanta roba Tanta 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 roba Vraimenta Dario è 45 Guarda che domani ho scuola Va bene Gera grazie di essere passato Ah basta Che do gioco Mi sta esplodendo la testa Alla prossima Grazie.